bella a tutti ragazzi qui che vi parla è Yuki Salon 3 ed oggi siamo qui con X-Strategico Koifi, saluta a tutti bella a tutti ragazzi oggi siamo qui in questo uno contro uno col cecchino attenzione sniper su Modern Warfare 3 in diretta solo per voi ragazzi siamo con un grandissimo uno degli osparenti maggiori che sa fare il trickshot su Mv3, Mv2, Black Ops 2 ragazzi è troppo bravo e l'ho voluto qui con me per sfidarlo in uno sniper vs sniper su Damm su Mv3 e vediamo un po se... vabbè vedi volevo anche iniziare una serie con lui infatti anche lui è modder come me quindi se volete essere moddati... no non vi lascerò nessun link perchè solo io... vabbè ti rubo... allora... aspetta che non mi piace sta classe... ecco... si infatti... classe gesuita... ok... 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 oh spara in aria così ti vedo... vai gioca... ecco... ecco ho sparato... mi vedi... oddio... oh no... ok... prima kill fatta da... il grandissimo... ehm... ok... ok... allora... 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 che tranquillità... si... non parlo molto durante sti... ah... sto cecchino di merda... ah... stellate... ah... alle... alle palle mi vedi ispirato... vai... vediamo... ok... ora me la pari... vediamo se ti aspetta... quando è con il big phone... no... a 2 150... ah nooo... ho dimenticato lo spawn... ah... allora... 102 50 50... oh 100... ah nooo... ho dimenticato lo spawn... haha... ah... rispondato lì no stavi dietro oh no non ci credo tra pochino io gioco come mi sento di giocare raga non sono neanche molto forte perchè orressamente ho perso la mano a sto gioco oh e arriva il maestro no perde dopo una serie di ok un'altra quickscope ok si è fatto visualizzare ah 300 e 500 vediamo come andrà a finire ragazzi comunque vi invito a iscriversi al suo canale perchè ha 800 iscritti e voglio una mano no vabbè diglielo che però sono inattivo vabbè si è un po' inattivo comunque ha un sacco di visual ci dico sono appena tornato raga che dire ok allora ok colpa precisa quattro 400 e 550 cavolo tra poco finisce tra poco finisce no hitmarker il tempo è quasi scaduto quanta l'ho di questa frase la frase è più diata ricordi vero vero ma non puoi accolterare lo sniper eh ti dovevo eri troppo vicino dove sei dove sei oh cavolo ma dai vai 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 dove sei hitmarker cavolo sto cerchino di merda no no 506 150 no raga eh vabbè si perde no l'ultimo kill volevo fare yes no dai di pochissimo vabbè comunque ragazzi se volete la divincita se volete la divincita arriviamo a 150 like e lo batterò ve lo giuro ragazzi mi impegnerò tantissimo vai che gallero tutti i giorni ora no dai allora ragazzi lasciate un bel like per questa nuova collaborazione con questo nuovo youtuber una leggenda di code ragazzi e quindi da qui è tutto a Yugi Star a te la linea Maria De Filippi no vabbè dai saluto anche te bella a tutti ragazzi ci vediamo alla prossima bella ciao a te la linea ciao a te la linea ciao a te la linea